di Stellantis che ha presentato il piano industriale ad Amsterdam. Vedremo una 24 ore con vetture elettriche sulle montagne delle Dolomiti e poi parleremo anche di sicurezza, come la tecnologia aiuta anche l'aquaplaning o ad affrontare appunto temi come l'aquaplaning. Allora andiamo ad Amsterdam dove abbiamo parlato con Carlo Tavares e vediamo il piano industriale. Sicuramente lei è una delle auto italiane più amate e se aggiungiamo anche lo stemma Abarth, la Fiat 500 è sicuramente un piccolo gioiello da collezione.